La ASLI Teramo ha annunciato che da lunedì diventerà operativa la nuova USCA, unità speciali di continuità assistenziale, composta da quattro medici e si occuperà delle 18 strutture sparse in provincia che ospitano anziani. Dunque alle cinque unità speciali già presenti sul territorio se ne aggiungerà una sesta, un'USCA speciale dedicata alle case di riposo che al momento hanno diverse criticità e bisogno di supporto, visto che non tutte le strutture forniscono assistenza sanitaria, a volte sono case famiglie che ospitano persone autosufficienti. Abbiamo individuato quattro medici che verranno addetti a un'USCA, chiamiamola così, speciale, itinerante che si occuperà di sorvegliare i pazienti covid positivi sia nelle case di riposo, residenze per anziani, autosufficienti, nonché il covid hotel che è in via di istituzione a Giulianova, è una residenza per anziani covid, stiamo cercando anche questa qui di reperire i locali idonei. La USCA viene messa in campo quando già il contagio c'è stato, ma comunque per evitare da una parte il propagarsi del contagio all'interno della struttura, ma anche e soprattutto per fornire a questi pazienti un'assistenza sanitaria che spesso queste strutture comunque non hanno abbastanza, diciamo, dal punto di vista quantitativo, sufficiente per poter assicurare una corretta gestione di questo tipo di paziente.